ragazzi benvenuti in questo nuovo video su warzone oggi vi porto una bella partitozza durante il subday quindi in compagnia di alcuni fan giocata in terzetti veramente molto hard un game spinto sino all'ultimo secondo diciamo che non ci avverisco messo in realtà tanto su questo game però vedrete alla fine succederà un po di caso di casino ecco gustatevelo tutto fatemi sapere cosa ne pensate buona visione perché doveva essere settimana prossima con la pace di settimana prossima però l'anno anticipata ho ucciso uno ragazzi che secondo me è molto contento per questa morte quando luttato avete usato voi qua dentro o che allora c'è qualcuno qui raga visto va davanti a me ragazzi volete ogni uno davanti aiuto non so dove è andato penso a destra davanti a me uno qua vedi che ce lo facciamo raga no c'è uno la niente mi pinga la porta è nell'altro anger quello punto blu io vado di magico grau io chilo e car adesso stronzo con l'elicotter lo vogliamo uccidere adesso prendo la cassa ma vuole morire un colpo la uno one shot mi sono ben di coglioni dove sono dov'è il cadavere di questo qui ok gli stanno sparando anche da dietro a occhio salite sono un paio e non è l'unico gli sparavano anche da la store c'è gente superstore ignorate ignorate entra dentro e salite qua cazzo con me che ce li facciamo c'è chinata la superstore scusate ma era pieno di gente dove sono finite sono morte ragazzi fidati di me buttiamoci la concessionaria no no peso porco due sono sei adesso vai a concessionaria buttati a concessionaria bro e prendi la macchina ti aspetto lì no bro aspetta no 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 questi ci fanno un edge pesantissimo boh se ve la sentite proviamo salite eh quando vi dico il via io 3 2 1 vai no bro 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 devo scendermi hanno già hitato il via era posto per partire secco così e non stare bene per la sera eh non mi ha fatto entrare zio vieni qua passiamo dietro hitato uno hitato craccato coprimi un attimino giusto vi faccio un attimino passare la voglia da dietro da dietro no mi aveva stunnato il mio mp5 doveva no 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 ce l'ho io ce l'ho io arriva da qua a dietro anche mi ha noccato con il cecchino è ancora lo spawn ti me lo do dallo spawn ma è al centro? si è al centro spawn ma è dal centro spawn a sinistra grazie dov'è lo shop raga? tratto 8k me ne sono accorto ora questo qua a sinistra ascoltate prendo la cassa che ce l'ho a fianco so che sarebbe meglio ressarvi però per evitare di ressarvi farvi venire da soli qui a morire mi sparano qua oh mio dio mi ha craccato uno e mi ha fatto un altro col cecchino sono safe se uno mi viene a ressare grazie zio ascolti io scappo subito all'indietro tu scappando all'altra parte sto scappando all'indietro bro ha craccato uno dov'è? ha craccato uno ha craccato due c'è l'ultimo bro c'è l'ultimo se salite le vai ha craccato l'ultimo ti prego vai bro non mi fa salire no bro da lì non si può salire non si può salire da lì sali da un lato io vado da lì li sta restando veloce tu vai da sotto io vado da qua moriremo lo so dominati inutile dire che li ho dominati tutti questi qua mamma mia ecco ci mancava pure l'elicottero no ma sono lontano si se ne ho craccato uno in elicottero? eh l'ho visto finare bro in arenare in arenare guardalo 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 qua davanti lo vedi? si si craccato a terra bravo bravo qua arrivano da qui andiamo ma adesso è un nemico si io no bravissimo ascoltate venite con me ragazzi li prendiamo da qui larghi e qui arriva il mondo ti ho buttato uno sceso ragazzi mi sa che ci sono restati questi può darsi io devo luttarli devo andare vai così aspetta ne ho tornato uno di guavè ok sono a destra venite 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 non lo vedo qua adesso l'ho ucciso forza si è in altro si eccolo in area lì no sto laggando non riesco a muovermi che palle raga ci credo l'ho craccato malissimo vedete qua si fighta? arrivo arrivo sono al piano terra eh allora questi devono venire da noi ascoltate a me saliamo qui raga sul tetto qua e li zoniamo facile proprio anzi guardate si fightano qui proprio davanti a noi è qui fuori tipo è qui fuori waitate un pochettino fermi mantenete la posizione ce li facciamo facile uno lì palle sto craccando il mondo sto game veramente il mondo raga c'ho 13 kill 6600 di danno venite a destra prendiamo la tagliuzza una a destra l'ho vista l'ho vista ok no passiamo un po' larghi perché mi sa che ho visto anche gente a sinistra due a sinistra raga venite venite lasciatelo quello là fidatevi è andato è andato ok ok dobbiamo fare itare con tutti mi sa perché la safe è lontana li incrociamo tutti c'è gente sia a sinistra che a destra io farei prima questi a sinistra forse guardali qua morto uno morto due no raga venite qua venite qua dobbiamo braccare questi qua a destra ci becchiamo almeno due persone raga golosissime proprio che crossano nel ponte vedrete nella torre ma guarda questo babbeo dov'è guarda uno lì anche uno sotto la torre morto si 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 scusa siri scusami non ho visto bravissimo ok qua davanti gente andiamo andiamo Aitano qui davanti a me stanno sparando a qualcuno qui davanti a chi stanno sparando c'è gente anche in alto mi sa è un team che sta pushando un altro team raga allora questi sotto mi sembrano più forti perché li vedo belli aggressivi state fermi guardiamo ce n'era uno anche di là scusate andiamo dietro andiamo dietro venite qua vedete ragazzi c'è gente quassù questa esce qua ho uno davanti bravo si sa che c'è neanche uno sopra uno qua morto a destra c'è gente quelli che vi hanno noccato prima venite salgo sopra qua elicottero l'elicottero ancora sta girando non so quanto tipo devo dare è atterrato uno la no non è atterrato è atterrato nell'asfalto bro ha fatto un atterraggio un po' duro ma ragazzi fermi un po' secondo me siamo nel punto migliore rimangono tre squadre oltre noi sei persone quindi mediamente cioè team da due si fightano a destra terrei questa altezza qua finché non siamo obbligati a scendere ok allora abbiamo un team un team della montagna lì un team lì a destra manca un team raga io direi di farci il team a destra però in realtà ci serve un punto safe no rimaniamo qua raga è l'unico punto con l'head glitch mi sa della safe occhio eh state attenti allargatevi a sinistra raga nel caso c'era uno dietro quella roccia prima ok qua c'è un head glitch ottimo mi sparano ce l'ho davanti stanno crossando verso di me raga aiuto sparategli tipo qui mi sa ah si spara riprendiamo l'head glitch che avevamo prima ma dove l'ho messo prima qui dietro c'è crackato pintato di nuovo è one shot bravo gente ho visto uno qui crackato e un altro a sinistra due a sinistra qua crackato c'è il tatt crackato uno è one shot è la bro 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 deve andare da loro fatto no c'è uno davanti c'è uno davanti è low down che safe ucciso uno siamo 2 di 1 bro mi corazzo no mi ha azzerrato è dietro il low down dietro il low down davanti te vinto credo si bravi bravi da batta un po' cream pulita mica raga ma quanto danno ho fatto non ha senso raga cioè quasi 10k di danno è un botto che dire ragazzi belle bombe pulite over 20 bombe pulite siamo riusciti a portarcela a casa non so neanche io come vi dico la verità era un game perso spero vi sia piaciuto ragazzi lasciate un bel like noi ci becchiamo alla prossima qui da veloci è tutto ciao belli ciao